Sì? Siamo ritornati a giocare Stamulo Guys visto che ve lo avevo promesso alla fine del video di oggi Mettiamo il pollo perché sono una schiappa C'è ancora mio cugino, raga! Sto carezzando di mettere il pollo perché non sono un pollo Checco, che ti sei impossessato? Di cosa? Ti sei impossessato? Nella tua mano? No, vabbè, non capisco il cazzo E vabbè, raga? Stiamo giù Ingo! Stiamo giù, canto! Checco, lascetti di ridere Domenico, stiamo facendo un video E sto facendo tante views con te Però se vi iscrivete Io mi iscrivo al vostro canale Oppure se fate l'abbonamento Quando lo farò? Quando lo farò? Cicchi Ciucini ciuccio ciuccio non mi qualifico ciuccio non mi qualifico vabbè e si comincia la partita la partita è via ok ora facciamo la cosa aspetta che voglio mettere la skin del polletto raga visto che ho messo la skin del polletto e non ho usato le motte ecco perchè non ho vinto faccio tante views con te checco raga non gli ho dato uno schiaffo tranquilli ho fatto solo così con le mani perchè non ho la webcam oggi perchè non l'ho mai avuta semplice non l'ho mai avuta perchè mia madre non me la fa mettere aiuto se se qualificati raga qualificati raga raga non vi dico la mia situazione raga non vi dico la mia situazione adesso dopo faccio una short per farvi vedere la mia situa adesso e vedrete finalmente la faccia di mio cugino io l'ho dato un bacio raga raga non so fare molti trick ma è brava ci devo cantare ci buca spaccare sai spaccare con la testa sai spaccare con la testa la testa ai muri ok ma nella vita reale o su Sammall Guys? su Sammall Guys ah ok stiamo facendo nella vita reale raga, problema problema proviamo no 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 non provare stai provando non parlo stai a minitra bro non lo devi fare e perchè mi te l'ho fatto male si ah ah si si ho avuto culo ho avuto culo riseri no salgo no ma che cこと pla pal a mio cugino mo mo raga raga non lo so non lo so perché mi escono le mappe che so fare vi mostro già un trick no sono caduto non fare queste cose in video vabbè raga non fate caso che sono pazzo usiamo la si si se sono fortunato la vinco se sono fortunato la dovrei vincere dai forse la vince lo scheletrino verde no raga l'ha vinto lo scheletrino verde no ma vinto il super guy pensavo lo scheletrino verde vabbè raga adesso metiamo si sono aut che mi va sempre di culo con questa e così va bene parliamo sto detto perché si muore vabbè raga ti metto mi fai andare l'iscrizione tutti a zero lo sai che se continui così mentre quando faccio il video con te se continui così arriva a zero iscritti pochissimi pochissimi cioè riparto da zero raga vi piace a me tipo no perchè non so raga mi so qualificato raga mi so qualificato non ci faccio la non ci facciamo che cosci non ci facciamo non ci facciamo giro polla gabbiano è felice la compagnia No, non ti prego, che copyright? Oh, basta, basta! Dai, che c'è il copyright. Ok. E poi mi bannano da YouTube. E non possiamo fare più video. Vabbè, questa è la scusa per non farlo cantare. Quanto l'ho detto? Quanto hai detto? No, vabbè, che stavo scherzando. Bimbi, bimbiun, 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 bimbiun! Ciscia! Io non sto scherzando, ho tentato con te detto. Cicci, 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 se non mi qualifico faccio schifo. Lo sapevo! Ha vinto tutti! No, io non ho vinto un cavolo. Dico cavolo, anche se abbiamo detto tante di quelle paraolash. Poco dio? Sì. E basta, basta, basta. Mettiamo la mia prima skin leggendaria. Dai, passi. Mettiamo la mia prima skin leggendaria. Non ho capito niente, ragazzi, se non capita quello che dite il mio cugino, vabbè. Cambiati! Ok, go! Ragazzi, 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 ragazzi. Ginetto, 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 Gigi, Ginetto, 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 se non mi qualifico è colpa tua, eh? Allora, se non ti qualifici, mi ti do centomila tre euro. Ok. Non te ne do più, tu non mi hai. Du, che se non me li dai, se non mi dai un meno cinquanta euro. Allora, se vinci questa partita, se vinci questa partita, ti do mille cento cinquanta euro. Se vuoi vanno bene pure cento euro. Se vuoi vanno bene pure cento euro. E perché? Allora, ragà, il video finisce qui. Allora, andiamo dopo. Allora, andiamo dopo. Facciamo un altro video in un altro gioco. Beh, non ve lo spoilerò.